Salve a tutti amici artisti, oggi finalmente unboxeremo la mia nuova playstation 4 ho aspettato un bel po' per averla ma finalmente è qui e quindi l'unboxeremo Eccoli qua tutti i componenti Qua c'è il controller Dualshock glue Il mio secondo Dualshock perchè è previsto nell'offerta E poi qua c'è il cavo di convertitore hdm per il VGI per il monitor Che mi serve perchè io lo devo collegare al monitor e quindi è necessario Quindi partiamo con l'unboxing Allora eccoci qua Doppia inquadratura, ciao Allora Qua Facciamo vedere? Vedi lo giusti? Come si chiama? Dualshock Dualshock Professional Ecco E questo qua lo mettiamo L'avete l'ho fatta già prima Questo qua è col trasformatore L'importante perchè altrimenti ci sono problemi per colerlo in un mondo Speriamo che l'ho detto bene Sì perchè abbiamo comprato un altro Già E non è andato bene Ora dopo inquadratura perchè dobbiamo aprire questo Era bene Ora se cade io mi metto a ridere Ora se cade io mi metto a ridere Qua devo tirare Qua devo tirare? Aspetta La suspense La suspense La suspense Ma perchè ci mettono sto sigillo di merda Perchè se uno non c'ha voglia di Tanto da media world Ciao media world sponsorizzati Da media world Comunque Comunque lo mettono negli Quei cosi Eh c'è lo scatolo Lo scatolone La spaventere Eccolo qua Allora qua Prima di tutto sta lo scatolo Scatolo 2 al shock Vabbè dietro sta messo Ah Forse è il caso di Ok Adesso Adesso La leggerà Eh Fatti La leggerà Facciamola vedere per correttezza Ma Vedente Dicei che non mai hai niente Io Cosa Qua Ok Questa la mettiamo qua 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 Porta ma ma questo forse non è il caso vabbè lasciamo quando lo montiamo quando questo è più ha da produrre su ok una apertura apertura ok quella parte di bordo devi metterli a confronto mi raccomando mettiamolo di qua ma prendi prima tutto il contenuto foglietti di istruzione per la che non servono cioè sono foglie di carta sempre nel cammino di Cassatore non è un po' un po' un po' un po' un po' un po' il bai che stanno con un pia un po' un po' non può servire per registrare si però c'è su una cuffia però è utile cavetti cavetti tanti cavetti poi ora dovrebbe esserci eccola qua il pezzo a forte stai attento ecco facciamo un film epico bravo vai vai sicuro? vai vai vado? vai 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 sei venuto sicuro di ci vai 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 non esce non vuole uscire non vuole uscire ah ecco scatolone bianco deve uscire questo lo apriamo cosa più pesante è lo scatolo che la playstation porca putta ci faccio un po' di sentimento amala amala certo e poi io non ho mai fatto attenzione a tutto questo perché anche io l'ho avuta natale e in pratica l'ho aperta subito si ho fatto la speedrun a molti simbote prossima spesa come si chiama quel pezzo? quale è quel pezzo? ah è legato ci vuole? no 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 quello la legato è per registrare no quello la lo stand mi dicarica che c'ho pure che c'ho già io vediamo un catela tanta catela catela figlio unico di me mi dico mi dico mi dico si deve stare bravo tu fai il bravo prendi questo gentilmente appoggiala allora io direi giriamo così vabbè il rottore fa le azze eh sì dai dai lascia stare foto di famiglia foto di famiglia si facebook qua si accende qua si accende qua si accende qua si accende qua si mette il disco c'è quasi oh si fa uscire il disco qua entra il disco e dietro lo stando vino quasi gli ingressi vabbè tu la conoscete finisce ci ce l'hai da poco però da poco però il prossimo ad arrivare sarà Spider-Man, che porterà sul canale. Ora, apriamo il joystick che mettiamo lì sopra. Siamo la comprometto? Yes. Perché guarda, escono sempre sporchi stilosi. Forse qualcuno si diverte prima a giocare e poi li mostrano. Cioè, non è che è sporco. Allora, la qualità della videocamera non è il massimo. Non è proprio il massimo. Però qua è un pochino, non lo so, tipo sembra il gessetto. Che sono due fratelli. Uno è adottato, uno è... Figlio unico, figlio unici. No, che cazzo dico? No, figlio unici. Sì, ma lei sono uno pure, uno è che sono figlio unici. Chi ti dice che il padre non c'è più all'amante? Ok. E si, oppure è sgamato. Allora, qua sotto entrano le cuffie. Qua? No, qua si ricarica. Infatti questo... Dove? Ah, qua? Questo qua. Non passiamo i due cimini di due cimini. Con questo qua si ricaricano i Dualshock. C'era anche bianco, però io preferisco, abbiamo preferito blu. Questo sì. Scriveteci sotto nei commenti se preferivate il blu o... No, il blu perché altrimenti io vado a pagare. Ma quando mai? Non abbiamo i soldi. No, ma me lo compro in più. Eh sì, perché noi abbiamo tanti di quei soldi che non si contano e non si vedono. No. Sono chiamato il blu. Ok. Allora, ci vediamo dopo quando la montiamo. Quindi a dopo. Che poi tra l'altro, guarda qua. Qua sta pieno di schifo enorme. Sta pieno di fatti e cose. Quindi, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Spero che questo video unboxing vi sia piaciuto Se è così lasciate like, commentate e condividete il video Alla prossima unboxing